Il palazzo lì di Bologna, quant'è che è occupato? Più di due anni, circa un mese fa hanno festeggiato gli occupanti con una torta i due anni di occupazione. Lì c'è una proprietà che lo rivorebbe indietro legittimamente, no? Non è una proprietà... Poi c'è un sequestro, ora è nato e continua a essere occupato, la proprietà non riesce a averlo in nessun modo e non hanno risposta. Infatti per questo dico alla signora, anche se non gli avessi dato le chiavi, proprio la questione delle chiavi è una cosa irrisoria, se uno trova un giudice che decide comunque di non intervenire e si trova con una sua proprietà e gli occupanti però dicono che lì possono stare, si sentono in dovere di occuparlo perché chi ha quella proprietà ne ha altre, per cui avendone altre può avere la colpa di essere occupato.